auguro a tutti di poter fare l'esperienza personale con la mamma salutiamola ammali supplicando il Dio in figlio facciamo la promessa alla Madonna per l'amore o madre cara che su noi hai rilassato prometti a diventare più ferventi che passato o regina della pace il tuo sguardo ci consoli su noi posare le tue mani supplicando il Dio in figlio concludiamo con la benedizione del nostro sacerdote per intercessione del cuore immacolato di Maria di tutti gli angeli, i santi, gli arcangeli che benedica Dio, il senso, il padre, il figlio, il figlio amore alleluia grazie